Uno parte in porta, uno qua, gioco, stop, passaggio, apro, incrocio, arrivo qua, calcio e presa, ok? Semplicissimo, buona, livello a calcio sempre in presa ma da palla giù, buona, buona, sì, ok, un po' più veloce la tua giocata, appena lui arriva, che lo vedi fermo, parti col tiro, mi raccomino, passo avanti, buona, ok? La palla lunga, apro un croccio, vado dietro e la prendo, non me la rigiochi bene, ok? Perfetto, buona, ok, non arrivare con i passi lunghi però, apro un croccio e vai dietro, va bene, sì, scarico, dammela bene, ok? Ottima, cambia, non fare, non toccare il braccio così, dammi la palla, fai bene, fai andare bene il braccio, alla fine è come un lavoro di distribuzione, vai, scherzo, Jackie, bravo, va bene, va bene, attesa, ottima, oh, qua siamo migliorati comunque, sì, ma se tre sono di padel? Aspetta, posizione, occhio, non come se dovessi fare i 100 metri, buono, sì, scarico, posizione questa, ok, arriva frontale la palla, te la metto dove voglio, però non sbilanciare mai il corpo, sempre dritto frontale, buono, sì, scarico, questa, sì, no, va bene, sì, questa, ok? Palla abbastanza easy, posizionato, da là la metto, usciamo in corsa in tuffo, ok? In anticipo, in tuffo, sì, sì, mezza la metto morbida, occhio che hai strisciato i piedi, stacca bene, va bene, e vieni a me wollen andare, va bene, va bene, va bene e si vediamo, va bene, va bene, No 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 No